l'ho fatta e andiamo avanti devo ma avanti io ti seguo vai ciao a tutti i bischeracci sono cibi danni e quello davanti a me edoardo di bed drivers of italy florence siamo verso reggello e ci stiamo dirigendo in una zona un pochino più bellina lui a bordo della sua 206 io a bordo della mia cb 500 qui è pieno di bed driver siamo attenti speriamo di non contrarne oggi di bed drivers spettacolo con l'adjetivo pollo veloce dietro presto metterà anche il mio che è scrausissimo guardate che guida sportiva pollo se stai guardando questo video ho il tuo adesso primo da driver di giornata incredibile cazzo c'è la calamita in questo posto grande lui adesso passo cattivissimo mamma mia guardate che guida sportiva cazzo noi in toscana un si friggia mia o l'acqua stradelle allora google io sappi che ti odio perché grazie al tuo google maps ho fatto aspettare lui mezz'ora bella bella stradina intanto stai riprendendo con il suo super setup fai così cazzo ma spingio porca troia come stretta qui un po di ignoranza ci vuole sempre bella bella curva bella si sale ragazzi si vai fresco oggi è veramente un cardo bestia guarda come sale la peggiottina bella questa strada cazzo non abbiamo fatto un vitamina un altro bad driver ma che cazzo è ma vaffa il culo che tornantelli si comunque c'è la calamita per i bad drivers sono qua appunto con eduardo che è il proprietario del canale bad drivers sentite che english e niente stiamo andando verso pallombrosa dove si dice ci sia fresco questo che fa a gira qua ok questa è la prima la prima uscita diciamo domenicale macchina moto scusami eduardo ma la strada mi sta eccitando bella 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 wow che fresco c'è qui cazzo ben signore allora ora da bravo bambino io dovrei aspettarlo dovrei sto sbagliando tutte le fottute marce poi non vi saluto perché siete stronzi avete un gs di merda allora dove cazzo mi fermo mi fermo ok ora lo aspettiamo da bravi le persone ho già dato un po' di pasta eh devo ammetterlo ma non è colpa sua è colpa delle macchine che aveva davanti ti seguo ti seguo bella sta strada mi piace poi rimbomba tutto in queste stradine strette e niente noi dobbiamo portare sul tubo il toscanaccio ragazzi siamo pochissimi i vlogger moto vlogger car vlogger eccetera toscani sul tubo e io non lo sono perché non sono né un vlogger né un moto vlogger sono un coglione però la mia idea era anche quella di portare un po' di toscana su youtube oh che spettacolo che spettacolo che spettacolo che spettacolo cazzo qui devo ammettere che è veramente fresco mmm odore di fritto comincio a avere fan devo ancora imparare a moto vloggare perché non dico un cazzo o le poche cose che dico sono stronzate però vabbè lascio parlare il paesaggio dai mettiamola così ehi ti sei girata a guardare la moto eh ehi 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 ti ho beccato no ragazzi ma che spettacolo cazzo sembra dove hanno girato il pianeta delle scimmie no spettacolo sto posto insomma questo colla qui è un munco alto che un bel driver sono un munco driver